La posizione di ricezione La palla va ammortizzata molto bene Bisogna di conflitto di chi è? A me non mi interessa, non lo deve prenderlo Appunto Mi piace Va bene Questo è il carattere però Bravo, sei stato attento solo No, 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 ok, ho sbagliato Devo ripetere Se sbagli tu non si ripetere invece Poi cerchi di chiamarvi all'alzata Ok? Non lo stiamo andando, sì? Sì, sì Avete toccato tanti palloni Non c'è la ricezione di palleggio Non lo stiamo andando Non lo stiamo andando Non lo stiamo andando Mi piace Ok, finalmente No, non lo stiamo andando Però non corre Vai vicino a un'altra Ok, non lo deve soffrare Non saltate in sua ricezione Sì, vedo un po' il salto. Mi piace. Ottima azione. Infatti la tappa sempre significa. No, è fuori, fuori. La vostra avventura finisce qua. Si ralla. Tutta lì vicino al senso di motivazione. Buono. Ok. Ok. Sina. Ottimo. Se ti muove l'abbraccio unito. Cerca sempre il movimento della parte dei piedi. È la fine del tempo. Non saltare, poverino. Non se lo ventava. Non vogliono passare. Non vogliono passare. Non la sbracciare. Usa sempre le gambe. No, no. No, no. No, no. È troppo, è troppo scusa. Sia. il rafforzo nel braccio però non era un conseguenziale del terra ecco, volevo fare questa prima buongiorno la prenderò con la coppia dopo che non sono fiatati stop